Varese Corsi si rinnova, lo storico servizio culturale nato negli anni 80 cambia gestore e presenta le novità per la prossima stagione che partirà subito dopo l'estate. Varese Corsi è un servizio del Comune di Varese che viene messo a bando, a gara pubblica sulla base di alcuni obiettivi che l'amministrazione pone. Si trattava di rinnovare la proposta e il nuovo affidatario del servizio che ha vinto il bando ha presentato quest'oggi un programma molto ricco, articolato che mette insieme anche molte realtà e molte realtà di prestigio della città disseminando, e questo poi è l'obiettivo principale di Varese Corsi sin dalla sua nascita, disseminando le proposte su tutto il territorio cittadino. A gestire il nuovo Varese Corsi sarà un raggruppamento di imprese varesine. Tra le novità principali c'è la nuova sede hub presso l'ex scuola di calcinate del pesce con 5 alle di formazione, una palestra e un giardino con anfiteatro, quindi i numeri. Ad oggi abbiamo un roster di 150 insegnanti già soldati e pronti per un totale di circa 350 corsi, quindi partiremo con questi numeri. Novità direi tante sia in termini di tipologia di corsi sia in termini di location. Tra le tipologie di corse innovative avremo corsi legati all'intelligenza artificiale, piuttosto che al mondo degli animali, quindi con pet therapy o corsi legati all'addestramento agli animali. Rispetto alle sedi c'è il coinvolgimento di oltre una cinquantina di sedi, quindi oltre a quelle che il Comune mette a disposizione, moltissime sedi private che vanno dall'osservatorio astronomico del Campo dei Fiori fino alla Canottieri e alla Schieranna per arrivare a San Fermo con il coinvolgimento del Golf. Grazie!